ho un pisello nel culo ma si mettecelo anche te 8-21 no 21-8 13 dieci ma come si fa 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 ma giusto non ci avevo pensato stai davanti comunque questa cosa questa voce non c'è un attimo di ricordarlo io poi che ti guarda qua? certo certo fai facciare le seghe eh Pice come fai che guardi Pice dai c'è una mierda nitch quindi la cosofia di nitch e di una web nitch come la tedesca eh si che è nitchiana nitch nitch voglio una p*****a proia qui mi sente c***o mi puzzo ma 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 aperantino morino su instagram ma mi fa seguire perchè? ma sei rotto e fai mai fiendri per il mio video non puoi usarmi come un burattino ma se mi diverto mi fallo beh non ho usato no per nulla che comunque guadagni eeeh rieccoci short track 2 block trials ho fatto una cacata Massimo che cacata ho fatto durata? ma come fai a sapere usare OBS c***o una clock? da capire? uno clock due clock tre c***o ma una cosa che dici no? perché sei saggio? dipende c***o nel senso ti prego fai un pò di ne alco no ma se non sono un animale adesso che fai tutto stessa assimiliano mi dice che cosa ti prego fai ridere fai ne alco ti prego ti prego fai dai ne alco e si ne alco rapa dai rap no mi hai chiamato ne alco ti sei friato scusami mi confondo capita no ma anche senza rap questi po' mi vengono a rompere il c***o sono più poco teniamo tutto il ben di dio andiamo a vedere di qua cosa c'è un gratane sempre comodo un po' che prego infarto ma quanti sono sono morto Ruff ho rotto? ho rotto non è la merda che merda? che merda? che merda? che merda? che merda? ma fai ne alco luci ti prego ma si nooo nooo ma perchè? nooo perchè nooo ma mi fa ridere ma nooo sei un animale da circo ma vedi che stiamo avanti per me ora siamo fuori in piante di canapa ma pecora ma la nana ma sono vivo sei a me sono fuggito dalla casa ma c***o di motore non sei d'aiuto fuggito aiuto ma come si dice? scappiti scappati vedi lo capito qua non è scappato c***o di ue questa livella è completata ma quanto sono forti? il fottuto Trump sapeva che stavamo arrivando la casa era una trappola le forze speciali massacrate mi ha usato come un'esca quando Kala arrivò che la stasi di Get Kong non hanno avuto speranza i fratelli si guardano in spalla diceva che Kala infetta l'ha ricordato Trump ma Kala che conosco questo impello mi ha cambiato non è il mio Kala posso salvarlo posso aiutarmi che diavolo sta succedendo come cazzo faccio ad avere le risposte se non conosco le fottute domande mi sa la giovanza la frase sensata c'è qualcosa forse si sono arreso zitto c'è ragazzi forse ci lasceranno in pace scusa oh Dio cos'è cos'è che che me 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 porta la barca arriva così i soldati di condurare in una zona di quarantena abbiamo i dieti e le costole porta la barca arriva giù dalla barca da riparo subito terzo giorno ore 10 via via chiara cambia ratio questa commenta che ma difficilissimo questa parte bah va diverso la barca non fa così a spruzzo penso che si è una buona qua infatti ce l'ha fatta dai che va puttana tron stanislansky tu lo conosci raffa raffa credo fosse eh conosci stanislansky raffa stai dicendo massimo ora a caso ma non so chi sia stai domando è lei è lui è il sium è il suss è il sesso è il song non è questo clash of fans abbiamo perso la war era tutta colpa tua raffa è vero mi stai ma tutto vergogna sai che lo fanno vergogna ma porca madauskas c'è fabioskis c'è sono troppo forte stevia con graffa come si fa dai ma non mi facciamo raffa ma ti dico massimo cosa stai dicendo non si può andare male così cosa non si può andare male così perchè no guarda stevia con di merda non mi troppano l'arma è normale compenetrano gli alberi oltrepassano i muri sono broken stevia con ma lì ma lì era lì no gioco non gioco uno stand stand come un'arma già fatta mi sono fatta vedere la mia roba ma sì ma guarda lì ma ma sciottano ma c'è qualcosa di fuori dal mondo c'è sta nube tossica che avanza come l'astinanza oh no nube tossica è soltanto una pioggia un rpg potete usarlo raffa no mi sembra e prendi un rpg guard tutto c'è un limite il nostro ricomincio da vai ok no joke no joke Grazie.